Siamo ragazzi, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, vi ho lasciato nel precedente video con una domanda, ho fatto un po' il bastardo, non so se si può dire questa cosa, come nelle puntate di Lost che ogni volta che finiva quella serie vi lasciavano con in testa il quesito, c'è anche un modo di definire questa cosa, ma non me lo ricordo. Comunque, in ogni caso ragazzi, la domanda era come fare a distinguere se questo rimbalzo dei mercati cripto, il rimbalzo di Bitcoin e di ETH, può essere definito rimbalzo del gatto morto, cioè non avrà modo di esprimersi nella sua, diciamo, stupefacenza, magnificenza, ecco, lo so come si dice, quindi non avrà modo di fare nuovi massimi in pratica. Come facciamo a capirlo e soprattutto qual è un indicatore, questa volta un indicatore di trading che possiamo utilizzare per mettere mano e capire delle aree di rimbalzo dei mercati che possono creare delle serie difficoltà qualora si dovesse fermare lì il movimento e incominciare nuovamente un trend al ribasso. In questo caso noi avremo la risposta se questo beer market è già finito, quindi era solo un pezzettino, che è un po' quello che pensiamo da un anno, oppure no, è qui il mercato, ci giocherà brutti scherzi. Va bene, allora andiamo a vedere questo super video, oggi rispondiamo a questa domanda, oggi diciamo non ho tirata per le lunghe questa risposta, iscrivetevi al canale come sempre ragazzi, poi anche sul mio canale nuovo IG, che tra le altre cose sto anche preparando un video per un utente perché avevo provato a fare un reel ma non ce l'ho riuscito, è troppo corto per me che devo parlare un po' di alcuni argomenti per rispondere alla domanda perché non parlo di investimenti di lungo periodo ma di trading, in realtà è una domanda mista, quindi farò proprio un video deciso per la prima volta di fare un video su IG, poi vi do un'altra news, io da oggi sono in ferie. Ciao, buonanotte a tutti, me ne vado ragazzi, vi lascio questo e chi si è visto si è visto. Vabbè ragazzi, allora che significa che sono in ferie? Che non faccio più video? No, no, li faccio ancora, però ovviamente ragazzi sarò un po' in giro, continuo a suonare con la mia band già fatto per tutto luglio, ho incontrato anche alcuni di voi nei miei concerti e sono contento perché mi siete venuti a salutare, insomma abbiamo scambiato qualche parola, io però sono solo al sud Italia quindi non camminerò per il nord perché insomma non è molto difficoltoso soprattutto in questo periodo, però ragazzi sarò in ferie questo mesetto, me lo faccio un po' così on the road, mi pubblicherò qualche contenuto anche sulla mia pagina personalistica Instagram di quello che faccio e quindi niente, tenetevi su Bitcoin soprattutto ma i video YouTube continueranno alla grande però come sempre faccio ogni anno vi dico anche questa cosa che vado in ferie. Allora andiamo a capire che cosa utilizzare per andare a comprendere qual è l'area di rimbalzo che i mercati potrebbero toccare e poi ricominciare a scendere, questa è un'area molto importante, utilizzeremo uno e un solo indicatore che in questo caso è molto rilevante perché soprattutto nelle aree di rimbalzo io lo utilizzo già da tantissimo tempo e mi piace molto perché crea anche delle figure di price action che sono sensibilmente significative e soprattutto se applicate a movimenti lunghi come questo qui che ha appunto un movimento che dura da mesi e soprattutto se applicate a un time frame di natura daily. Utilizziamo il classico indicatore di ritracciamento di Fibonacci, andiamolo a vedere sul grafico di Bitcoin, andiamolo a vedere sul grafico di ETH come si deve usare in questo caso e quali sono le aree che vi ho detto nella volta scorsa. Allora iniziamo non da ETH però ma iniziamo come sempre da Bitcoin, intanto andiamo a guardare anche questo movimento che c'è stato molto bello dall'inizio del mensile e il mese del giorno del 20 luglio, questo movimento che ha avuto questo balzo in avanti si è fermato nuovamente con un fake break di questa resistenza in effetti aveva fatto un break di un giorno poi è ritornato indietro, questo come vi ho spiegato è una resistenza difficile attendere meglio un break settimanale ma poi sarebbe troppo difficile entrarci, quindi qui va gestita con il trading, non c'è altro modo se volete attendere il break di questa resistenza settimanale è capace che poi vi trovate Bitcoin a 48 mila dollari e quindi insomma anche entrare lì sarebbe difficile, quindi o la gestite con i sistemi di trading e le tecniche di trading o non so fate un accumulo in queste fasi discendenti, non c'è altra soluzione. Allora andiamo a vedere come impostare i nostri ritracciamenti di Fibonacci andiamo qui su TradingView, prendiamo il ritracciamento Fibonacci, vi posizionate sul massimo avuto al 15 di aprile poi scendete fino a questa zona che è la zona di minimo e babam, eccoli qui tutti i ritracciamenti che andiamo ad utilizzare quali sono quelli più importanti che possono bloccare questa fase di rimbalzo e da quale livello potrebbe scaturire un famoso ABC correttivo quindi questa fase di rimbalzo essere solo ed esclusivamente la fatidica fase B di un correttivo ABC e quindi questa è tutta una zona di mercato orso che ancora non è terminata, sta solo facendo una gamba di rimbalzo e a quel punto dovremmo anche pensare di utilizzare questa gamba per o uscire dalle posizioni o coprirci eventualmente con uno short. Allora, quali sono le aree? Le aree di Fibonacci prese in considerazione tecnicamente valide secondo teoria classica per questo tipo di rimbalzo da costruzione di ABC correttivo sono la 0,61,8 e la 0,78,6. Vi faccio vedere queste aree e sono queste qui ragazzi, ok? Questa zona qui, questa zona di Fibonacci potrebbe essere una zona che se il mercato va a toccarla nei prossimi mesi ma non ce la fa a reagire e incomincia una fase discendente potrebbe dare il via a questo tipo di atteggiamento, va bene? Questo sarebbe un disastro perché ve lo dico in maniera chiara configurerebbe un annuale al ribasso quindi poi si scenderebbe matematicamente, quasi certamente, diciamo matematicamente non è un bel termine da usare nei mercati aleatori però si scenderebbe poi, insomma, con una buona probabilità fino a mazzo-giugno dell'anno prossimo quindi non è una cosa positiva. Allora, una funzione del genere ragazzi è, vi ho detto, anche un livello che è sicuramente un livello anche abbastanza alto questa è l'area che va a 51.500 e 57.500 tutta quest'area di Fibonacci la dovete tenere a mente perché potrebbe essere il punto di arrivo di questa fase di rimbalzo e da lì poi il mercato andrà a decidere la strada da prendere però se questo movimento è nella teoria classica, cioè normale da un punto di vista teorico potrebbe fare questo tipo di escursione a rialzo e poi tornare in giù se invece questo tipo di movimento è più debole potrebbe non arrivarci nemmeno lì ragazzi e lì ancora di più peggiora questo scenario quindi qualora un movimento del genere si andasse a fermare non a 0.61078 ma intorno allo 0.50 quindi qui in quest'area qui per iniziare la manfrina e poi perdere peso e andare a creare questo tipo di configurazione allora questa zona è molto insomma pericolosa e indicherebbe anche una difficoltà enorme nei mercati con una debolezza anche abbastanza significativa quando potrebbe essere raggiunta questa area e queste zone sulle quali noi metteremo una bella lente di ingrandimento e andremo a dire ok il mercato ha raggiunto questi target vi ho detto i primi target ve li ripeto ragazzi 47, 51, 57 è giù di lì con 1000 dollari di oscillazione perché come sapete ormai 1000 dollari per bitcoin sono acqua colorata quindi non ci vuole niente a farle più su e più giù si chiama volatilità il touch del 0.382 vedete di Fibonacci ha già causato questa zona di swing al ribasso il 0.382 è veramente il minimo di rimbalzo che un mercato dovrebbe fare quindi non so ragazzi ecco mi sento di dire che potrebbe tranquillamente tentare un break e arrivare in queste zone tanto è vero che io nel breve qui ho già preso una posizione al rialzo quindi una posizione long per gestirla nell'arco di appunto pochi giorni quindi una posizione di trading non do accosti finanziari come sempre non seguite quello che faccio io ma studiate ragazzi perché è fondamentale stare sui mercati in questo momento è complesso quindi studiate per farlo dovete avere le basi sul trading e sugli investimenti allora se fa una cosa del genere qui andremo a vedere quando potrebbe farlo potrebbe raggiungere il 45-47 in questo mensile qui quindi prima della chiusura del mese di agosto quindi dovrebbe venire dal 20 agosto in poi oppure nel secondo nel secondo mensile cioè da agosto a settembre la probabilità aumenta di avere un impulso che riesca ad andare a toccare quei livelli che vi ho detto perché se abbiamo un annuale che insomma deve diciamo esprimersi si lo farà probabilmente tra nel secondo o nel terzo mensile quindi all'inizio però se l'annuale è forte ragazzi io non credo che vedremo dei sistemi di accumulazione molto molto lunghi quindi delle fasce di prezzo basso come questa 39 tra virgolette basso molto lunghe quindi questo lo vedremo però state attenti e fate attenzione a questa zona qui in particolar modo questa zona se dovesse arrivarci nei prossimi settimane noi metteremo l'ingrandimento e poi andremo a fare i nostri vari controlli eccetera anche questa zona 47 va segnalata assolutamente tra 43.047 va segnalato come un livello molto molto importante se ci arriva in questo mensile sono più tranquillo sono sincero ragazzi perché poi nel mensile successivo potrebbe avere anche spazio di raggiungere un target maggiore andiamo a vedere ETH quali sono i livelli invece su Ethereum che tra poco assisteremo diciamo alla questione fork con tutto il dovuto allora ETH guardate un po' stessa identica questione anche lui quindi sembra a volte che si vada un po' a instaurare allora vediamo se vi faccio vedere il precedente grafico non ricordo adesso dove l'ho messo allora eccolo qui perfetto ok guardate qui come sia sulla questione TH che BTC si c'è fermati a 0.382 di rimbalzo di Fibonacci anche in questo caso siccome la fase di ribasso di Ethereum rispetto a Bitcoin era leggermente più acuta il 0.38 di Fibonacci che ha bloccato questa fase è stato lo stesso quindi poi da qui in poi ancora una volta possiamo andare a delineare le aree di estremo pericolo per ETH che sono 3.300 e 3.800 giù di lì con qualche dollaro ed è questa fascia di prezzo qui da attenzionare in maniera estremamente importante e poi la 3.000 dollari qualora il mercato andasse a rompere questi 2.700 secondo me 3.000 dollari sono facilmente raggiungibili per ETH in questa fase da qui in poi poi appunto anche in questo caso bisognerà andare a fare le stesse conclusioni le stesse idee che abbiamo visto su la questione di Bitcoin ragazzi allora questi sono i livelli di target che bisogna attenzionare dove il mercato potrà andare a impattare poi se il ciclo in questione sarà un nuovo annuale lo sapremo a brevissimo ormai diciamo la probabilità è molto alta che qui sia iniziato un nuovo annuale dal 20 di luglio sta in tutti i piani sta in tutte le logiche nella famosa seconda ipotesi fra le 3 che avevo pubblicato 8 mesi fa ormai or sono quale sono le considerazioni ragazzi bisogna attendere da un punto di vista operativo attendere che il mercato ci dia altre indicazioni quindi se siete già posizionati vi ho fatto vedere il mio ingresso di luglio nel video dove era la mia area di ingresso andate però a rivedere anzi ve lo metto sulla mia testolina per farvi vedere appunto dove era l'ingresso corretto ancora una volta ragazzi è stato un ottimo punto di ingresso anche quello però poi da qui andiamo a fare i nuovi massimi siamo due anni tre anni il mercato arriva a 100.000 Ethereum arriva a 15.000 dollari ragazzi allora queste considerazioni non sono fattibili in questo momento se andiamo a fare una cosa del genere diciamo strombelleria quindi non è la mia usanza perciò non è quello che faccio in questo momento quei livelli questi livelli che vi ho indicato su bitcoin e su eth sono da attenzionare con la lente di ingrandimento per il medio periodo in questo caso se il mercato li raggiunge poi dovrà dirci che cosa vuole fare ma da lì in poi da lì in quel momento lì si possono magari andare ad applicare una serie di strategie di trading per proteggersi da eventuali fasi qui poi entriamo nel trading un po' più pro un po' più advanced chi è smanettore chi conosce chi è formato sa quello di cui sto parlando va bene allora vi ho svelato questa cosa quindi questa volta la mia domanda è stata subito svelata ragazzi nel video successivo va bene fatemi sapere anche voi se siete a cavallo di questo trend come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti